Dal manzionario al profilo professionale, dai metaparadigmi di Florence Nightingale alle prestazioni infermieristiche di Marisa Cantarelli, quella della figura dell'infermiere ha nel corso degli anni vissuto costantemente un processo di crescita anche con sostanziali cambiamenti, sia sul piano organizzativo che professionale. Nonostante tutto, sussistono difficoltà reali che vanno a minare l'autonomia di questa importante figura sanitaria. Di questi aspetti e delle prospettive riguardanti il futuro della professione infermieristica se ne parlerà domani a Cosenza alle 14.30 presso la sala conferenze di un albergo cittadino, nel seminario organizzato dalla Will Funzione Pubblica Calabria dal titolo L'Evoluzione della professione infermieristica, quali prospettive? All'evento parteciperanno il responsabile regionale della Will Funzione Pubblica Calabria, il dottor Francesco Spadafora, Elio Bartoletti, segretario generale della Will Funzione Pubblica Calabria, il dottor Armando Pagliaro, dirigente del Dipartimento Salute della Regione Calabria, il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, il dottor Eugenio Corcione, il dottor Fausto Sbosato, presidente dell'IPASVI di Cosenza e Franco Pacenza, responsabile sanità della Regione Calabria.